ciao a tutti i video amatori tutte le video matrici di senza fissa dimora e benvenuti in questo nuovo video questo è un video che non vorrei non avrei voluto mai fare è un video di quelli che se potevo scegliere non l'avrei fatto ma va fatto assolutamente per svariati motivi mi costa un po farlo ma va fatto va fatto perché innanzitutto conosco il tema come avete capito quello dell'alluvione quello che sta succedendo in romagna in gran parte è successo in romagna adesso sta succedendo anche in emilia si sta diffondendo questo problema che non è un problema di oggi e questo va detto subito ma prima di scendere un po in particolare mi preme anche dire che io sono coinvolto direttamente io vengo da quella terra sono nativo di quelle terre lì ho tanti amici nonché parte la famiglia che vive in quelle terre che stati coinvolti direttamente o indirettamente in tutto quello che è successo i danni che sono successo cose persone è successo veramente di tutto così come ho sentito dire di tutto in queste queste ore dalla stampa ufficiale dei media dagli speculatori da quelli che devono fare il video dell'ultimo minuto per raccattare qualche migliaio o centinaio di migliaia di visualizzazioni inventandosi teorie da quelle del controllo del clima da quella appunto degli istrici a quella delle nutrie che le nutrie che hanno scavato i buchi hanno fatto distruggere hanno di fatto distrutto loro loro sono i colpevoli che gli argini hanno ceduto ho sentito veramente di tutto e quindi mi sembra meno doveroso mettere qualche puntino sulle i e magari anche con qualche dato storico anche se io non sono uno storico non sono un climatologo e non sono neanche un geologo ma da tanti anni ho vissuto ma ho vissuto tanti anni in romagna anche girando anche le miglia conosco molto bene il territorio e ritornando c'è anche altrettanto spesso una cosa che è la prima che si nota è che non si fa manutenzione da anni in un video che ho visto su twitter c'è un signore che abbastanza incassato e va detta proprio questa parola perché è lì coi piedi nell'acqua non è dietro a un video come me né dietro a un in un comune con qualche banderuola di dietro a fare scena ma è lui è lì coi piedi sul territorio ed è incassatissimo coi verdi ce l'ha coi verdi ce l'ha coi difensori dell'ambiente che non gli permettono neanche a lui di pulire gli argini e lui l'avrebbe fatto gratis dice io avrei preso il mio trattore sarei andato lì a pulire gli argini ma non si può perché lì c'è il picchio di là c'è quell'altro che non si può fare quello ti fanno la multa chiamano la polizia perché fai manutenzione te dove la gente non ha fatto manutenzione poi si legge un intervento credo sia stato insomma un articolo di giornale che dice che bonaccini ha restituito 55 milioni di euro perché non è riuscito nei tempi rispettare i tempi per fare manutenzione quindi le ha restituiti i soldi che gli avrebbero dato e per fare manutenzione lui li restituisce perché deve far quadrare i bilanci e o più che altro perché deve fare bella figura politica perché bonaccini è uno che mi devo stare tranquillo perché sennò prendo una denuncia bonaccini è uno che di qualsiasi cosa fa una speculazione è molto bravo a mettersi a posto le sopracciglia a essere tutto bello curato con la barba sempre abbronzato con la cravattina la giacchina proprio tipico del pd tipico del partito democratico che fa della politica un estetica al consenso volta al consenso e volta la deresponsabilizzazione infatti l'agenda climatica del 2030 che segue quasi tutto il partito politico del pd anzi tutto il partito politico di pd anche altri partiti ma soprattutto il pd in italia la gente si sposa benissimo con la deresponsabilizzazione cioè la colpa è sempre di qualche un altro una volta c'erano una volta migliaia di anni fa si dava la colpa agli dei non venivano i predicatori dicevano a voi avete non avete rispettato avete fatto abbastanza sacrifici umani non avete portato abbastanza carne riso grano sale a quella divinità e vedete la divinità vi ha punito e ha fatto piovere e ha fatto allagare tutto perché udito dite le alluvioni in pianura padana ci sono da sempre da quando c'è la pianura padana ci sono i fiumi che scendono giù dai monti degli appennini che sono a sud in questo caso di sud di forlì sud di cesena su di bologna scendono e tutti i fiumi scendono e non c'hanno lo sfogo sul mare continuo in una pianura la pianura padana per farvi qualche un po una lezione di geologia da uno che non è un geologo se pensate che una città che è a qualche decina di chilometri dall'adriatico è a 20 25 metri sul livello del mare prendete pavia che milano c'è all'altezza di milano quindi in fondo a 3 400 chilometri distanza ed è 70 metri 80 metri sul livello del mare quindi capite bene in 400 500 chilometri c'è un dislivello di 40 metri praticamente la pianura padana è un biliardo quindi il livello dell'acqua si fa molto presto a diciamo i fiumi fanno molto presto a esondare e l'acqua si propaga tanto che al fine della pianura padana sono quasi tutti i territori strappati alle paludi quindi ancor di più lì è facile che si presentino delle problematiche del genere quando piove e si presentano le problematiche del genere proprio quando piove tanto non è colpa del clima come farebbe tanto comodo al pd che lo governa in questo caso al governo in generale di roma se le responsabilità vengono spostate a roma ma visto che qui si parla di miglia romagna e ogni tanto qualcuno fa uno più uno quindi chiede direttamente a chi gestisce le miglia romagna da trent'anni da sempre che sono sempre stati i rossi il partito democratico comunista eccetera eccetera sempre loro hanno gestito e sempre loro si trovano a del responsabilizzare c'è la colpa adesso e del clima vent'anni fa era di roma che non dava i soldi poi c'è stata l'europa insomma sono passati la palla un po dappertutto ma la colpa è sempre degli altri una volta era degli dei adesso è del clima nello stesso tempo vediamo che gretta i grettini tutti i suoi fan club a cui si è spento anche l'ultimo neurone l'unica cosa intelligente che riescono a fare in questo periodo pochi giorni fa è quello di imbrattare monumenti non lo siamo qui tutti nella merda per colpa dell'incapacità totale di gestire della corruzione diffusa del fatto che i soldi non vengono mai spesi per le cose giuste ma vengono propinati per i gilet essere ben curati avere sopracciglia a dali di gabbiano ma non viene mai fatto poi un cazzo nel territorio insomma la colpa è sempre dell'istrice e in più siamo in un'epoca in cui io mi ricordo a memoria d'uomo mi ricordo delle delle alluvioni di firenze credo fosse metà anni 60 ma prima ce n'erano state anche molto pesantissime al sud insomma l'italia è tutta critica come situazione di territorio e non è a colpa del suv di adesso del diesel di adesso e non è soprattutto poi se cambiamo tutti i diesel e compriamo tutta la macchina elettrica che risolviamo il problema delle alluvioni né tantomeno con le caldaie o eliminando il gas di putin non si risolve il problema delle alluvioni pioverà esattamente nello stesso modo come madre natura vuole cioè con eventi ciclici che si ripetono e che colpiscono più gravemente delle zone perché geologicamente sono zone più deboli più fragili l'unico che non l'ha capito sembra la classe politica l'unico che a non averlo capito sembra la gente che lo gestisce sembra quelli che si dovrebbero prendere la responsabilità di gestirli infatti poi se non nevica è allarme se nevica è allarme se non piove è allarme abbiamo visto era la balla che raccontavano fino a due settimane fa la previsione dell'estate più secca di tutti i tempi che adesso è diventata previsione dell'estate più piovosa di tutti i tempi leggettelo sui giornali non sono io che lo dico quindi si è passati dalla siccità come problema diffuso gravissimo bacini che non hanno più acqua bacini che debordano e allagano e fanno morti quindi se non piove allarme se piove è allarme in più questa favoletta fa anche quel purtroppo effetto ha anche quel purtroppo effetto collaterale della favoletta della lupo al lupo quindi se voi dite sempre al lupo al lupo poi finiscono che la gente che non vi crede infatti c'è nota di mezzo un sacco di gente che poi ha preso tutto molto sotto gamba compreso le istituzioni sto parlando non sto parlando delle persone normali sto parlando delle istituzioni dei comuni che si sono trovati allagati dei parcheggi comunali di dipendenti statali hanno perso le loro auto tutto a spese dello stato poi verrà ricostruito tutto perché hanno dormito sugli allarmi chiaramente sono abituati che gli arriva un allarme per qualsiasi puttanata della volta che ti arriva l'allarme che invece avrebbe un senso non funziona niente perché la gente non vi crede più ora quale lezioni possiamo apprendere da questa da quello che sta succedendo che purtroppo è ancora sta succedendo anche adesso mentre vi parlo ma sicuramente che dobbiamo cambiare qualche cosa e che quello che dobbiamo cambiare non è sicuramente nell'auto nella stufa nella caldaia nel nostro modo di acquistare ma quello che dobbiamo cambiare è il modo in cui dobbiamo noi controllare i politici smettere di de responsabilizzarci e responsabilizzare responsabilizzare chi di dovere per primo noi stessi grazie 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 grazie